Ciao Tiffany! Ciao Lucas! Rappenetevi pure! Divertitevi! La situazione sta precipitando Nel giardino di Lucas Nichol Il distruttore È la forza più potente dell'universo! Dobbiamo contraattaccare con questa Una pozione? E come agisce di preciso? E i problemi di Lucas diventano sempre più grandi Man mano che lui rimpicciolisce Umano! Vieni con noi! Propondo che il distruttore venga dissezionato e studiato Mi vuoi mangiare? Giuro sul mio cuore che non ti mangerò Giuro sul cuore e non sul sedere Ciao! Come ti chiami? Sono libero! Fammi uscire! È ora di cominciare l'addestramento Dalla Warner Brothers Pictures E dal produttore Tom Hanks Una formica si sacrifica sempre per gli amici Scappa! No! No, 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 madre! C'è nessuno? No! Quell'uomo è venuto a distruggere la colonia Dobbiamo unire le forze per fermarlo! Resisti! Ho l'attacco! È la nostra occasione! Sì! Ant Bully una vita da formica Mi sento in dovere di attaccare qualcosa Quello sembra vulnerabile.